ciao mi chiamo chiara tartagni pazzo la copywriter ma anche la docente a me è capitato come copy di ricevere commenti stai scrivendo cose troppo intelligenti la gente è stupida ecco il corso di copywriting qui a olden pro è l'esatto opposto di questo concetto quello che invece ci interessa è recuperare un altro modo di fare creatività con anche esercizi pratici per cui ti aspetto a questo corso metteremo appunto le mani in pasta insieme e sono felice e già curiosa di conoscere quelle che sono le tue ispirazioni e aspirazioni grazie